Ciao a tutti, ti svelo in 5 passaggi le tattiche principali che lo faranno impazzire per te. Prendi nota! In questo video voglio svelarti in 5 passaggi quali sono le tattiche principali per far innamorare un uomo di te, per far impazzire un uomo di te. Prima di affrontare il tema però iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Termasco. Ti ricordo inoltre che sul canale ti puoi abbonare, abbonarsi è molto semplice, basta andare nella home page, tastino abbonati che sta vicino al tastino iscriviti e poi seleziona il tipo di abbonamento che preferisci, tra 4 livelli di abbonamento, abbonamento live per partecipare alle live, abbonamento base con lezioni mirate, abbonamento top con lezioni mirate e video registrazioni, seminari dal vivo, abbonamento Master Consulting con in più una consulenza telefonica. E adesso veniamo al tema. Ti svelo in 5 passaggi le tattiche principali che lo faranno innamorare, che lo faranno impazzire per te. Allora intanto devi renderti conto di una cosa che è, potremmo dire, un substrato fondamentale a tutto questo, che è proprio la capacità di essere centrata su te stessa, cioè non essere bisognosa, non andare ad essere appiccicosa, cioè devi mantenere il distacco dal risultato. Questo concetto di distacco dal risultato è un concetto fondamentale che serve in tutte le aree della vita. Cosa vuol dire essere distaccati dal risultato? Essere distaccati dal risultato che già soltanto questo ti permetterebbe di conquistare assolutamente l'uomo che vuoi, ti permetterebbe assolutamente di conquistare la persona che desideri molto facilmente, molto più facilmente di quanto tu possa pensare. Allora, quali sono gli elementi del distacco dal risultato? Significa non essere dipendenti dal risultato stesso, e questo è fondamentale, cioè nella seduzione di un uomo non devi essere dipendente da quell'uomo. Questo io lo dico sempre, alcune persone mi dicono, eh vabbè ma com'è possibile? Allora, le persone sono degli strumenti, non sono degli obiettivi. Ogni tanto qualcuno nei commenti e video dice, eh ma come le persone sono degli strumenti, ma allora tratti le persone da oggetti? Assolutamente no, io non tratto nessuno da oggetto. Ma cosa vuol dire che le persone sono degli strumenti? Vuol dire che le persone sono praticamente degli strumenti che ti consentono di raggiungere un obiettivo. Ma avere un obiettivo e una persona è questo che depersonalizza, se vogliamo, la persona. Perché tu non puoi dire, ah il mio obiettivo è sposarmi con Carlo, per dire. Ma se sto Carlo non ti vuole sposare o non si vuole sposare con te, eh beh, sarebbe tu praticamente perso il tuo obiettivo. Questo è, cioè. E quindi invece la persona deve essere uno strumento. Quindi vuol dire che il tuo obiettivo deve essere sposarti con qualcuno che ti faccia stare bene, vivere una vita matrimoniale felice ad esempio. E quindi mantieni il distacco dal risultato. Nel senso che se non è Carlo sarà Francesco, se non è Francesco sarà... Perché tanto, come dire, se sto Carlo a te piace, ma lui non ha nessuna intenzione, ti farebbe vivere una vita infelice. Quindi è molto importante questo. E se il tuo obiettivo è sposarti, potrai raggiungerlo. Potrai magari arrivare alla convivenza, non potrai centrarli in pieno, ma comunque se uno poi si impegna nel raggiungimento di un obiettivo, se l'obiettivo è sensato, cioè specifico, misurabile, accessibile, realistico e temporalmente collocato, e sono buone possibilità di raggiungerlo, mantenendo il giusto distacco però dall'obiettivo stesso. Allora, quindi, vediamo queste cinque cose, queste cinque, possiamo dire, tattiche, questi cinque passaggi che lo faranno impazzire per te. Allora, nel rapporto con lui che hai conosciuto, con la persona che hai conosciuto, devi mantenere la tua sicurezza. Non importa che entrare in contatto con questa persona perché ti piace, ti può rendere un po' nervosa, o tu devi dimostrarti sicura di te. Mostrarti come una donna che si sente attraente. Ma quindi, ripeto, qua non si tratta di fingere, si tratta di diventare, di sentirti veramente attraente. E questa fa la differenza. Questo non solo ti aiuterà ad ottenere sex appeal, a essere più interessante, a essere più intrigante, ma ai suoi occhi acquisirai, diciamo, un fascino particolare. Perché una donna che si sente sicura di sé, beh, è già fatto un grande passo avanti nella seduzione. Secondo punto, prenditi cura del tuo look. Fai in modo che il tuo look sia un look sensuale, femminile. Diciamo che il look prevede anche l'atteggiamento, quello che viene visto dalla persona. Se il tuo atteggiamento, il tuo abbigliamento, la tua personalità, diciamo, sarà una personalità femminile, cioè differenziata dagli uomini, diciamo così, e tieni presente che gli uomini sono molto visivi e quindi è importante che tu appaia al meglio. Non si tratta di essere superficiali, di dire ah, sono superficiali, ma di evidenziare il meglio di te. Quindi puoi usare tutto. La comunicazione verbale, la gestualità è fondamentale, una gestualità femminile, la camminata femminile, fare strisciare leggermente le caviglie quando cammini, fare quasi, avere quasi l'idea di camminare su una trave che ti rende leggermente ancheggiante. Questo attira molto gli uomini, anche perché proprio per motivi istintivi, se portano l'attenzione sulle tue anche, ne sono attratti proprio per un istinto, insomma. Quindi, comunque, questo ti aiuterà anche essere femminile, ovviamente puoi aiutarti con l'aiuto sicuramente del trucco, un trucco leggero, con l'aiuto dell'acconciatura, molto curata, se i capelli sono lunghi, sono sicuramente più femminili. Tieni presente che la femminilità è tutto quello che distingue dalla masconnità, quei vestiti, quegli accessori, che ti stanno sicuramente bene e non ti rendono volgare. L'igiene personale, ovviamente, è fondamentale poi in tutto questo, l'alito profumato è fondamentale. Terzo punto, cerca di essere misterioso. Qualcosa che trovano molto sexy e interessante allo stesso tempo, è una donna, qualcosa che gli uomini, ovviamente, trovano molto sexy e interessante allo stesso tempo, una donna che sia misteriosa, che non riveli troppo su di sé. Questo non significa che devi dimostrarti fredda e distaccata, ma soltanto che mantieni mistero, che non ti apri. E questo suscita curiosità. Quando noi, quando un maschio è curioso, entra un po' come lo spirito da cacciatore, non vorrà conoscerti, vorrà, tra virgolette, cacciarti. Questo lo farà impazzire per te. Quarto punto, fallo sentire speciale, ma poi allontanati. Questa è una tecnica molto importante, perché è nel togliere, no? Il maschio deve essere un cacciatore. Quando una donna lo fa sentire speciale, la parte logica si aggancia, ma se poi si allontana, lo penalizza emotivamente, lo spinge quasi compulsivamente a cercarti. Ecco, questo è molto, molto importante. Quindi dare e togliere è molto importante. Prima lo fai sentire speciale, poi dopo ti allontani. Che tu ci creda o no, agli uomini questo piace. E come quinto punto, gioca. Devi divertire, la cosa è come un gioco. Gioca, veramente, divertiti. E questo è un altro punto fondamentale. Ma devi essere una persona solare, sorridente, e giocare con lui, flertare. Ecco, questo, in questo modo lo conquisterai completamente. Senza ombra di dubbio, riuscirai veramente a colpirlo nel segno. Bene, per questo video è tutto. Se ti è piaciuto metti un like, condividilo con i tuoi amici. Iscriviti al canale, attivando la campanella, se non l'hai ancora fatto, così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi sulla pagina Instagram, Massimo Terramasco, seguimi anche sulla pagina TikTok. Ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare, scegliendo diversi livelli di abbonamento. Abbonamento live per partecipare alle live, abbonamento base con lezioni mirate, abbonamento top con lezioni mirate, video registrazioni, seminari dal vivo, abbonamento master consulting, con in più una consulenza telefonica. Ti ricordo ovviamente che abbonarti è facile, basta andare nella home page, tastino abbonati, che sta vicino al tastino iscriviti. Ciao a tutti!